Anche questa volta le autorità si trincerano dietro il più rigoroso riserbo. Vecchi parla di avvistamento verso Verona, Vecchi dice, invece, verso Sant'Agata Bolognese. Ma può anche trattarsi di fantasie. Certo che la campana della Ghirlandina ha dato tre rintocchi d'allarme. Ed in moltissime case si sono rinnovate le scene di spavento del precedente allarme. La città era anche percorsa da numerosi gruppi di richiamati. Moltissimi di essi percorsero le vie, completamente immerse nel buio, cantando canzoni patriottiche e guerresche. E tratto tratto mandando grida di Viva l'Italia e da basso l'Austria. Esaltazione della guerra e paura per i suoi effetti. In questo articolo della Gazzetta dell'Emilia sono racchiusi due sentimenti opposti, entrambi presenti a Modena. Quando le campane della Ghirlandina suonavano a martello nel cuore della notte, i modenesi si svegliavano con il terrore di un possibile attacco aereo. Ma si trattò sempre di falsi allarmi e di esercitazioni. Nessun velivolo nemico sorvolò mai la nostra città. Nessun velivolo nemico sorvolò mai la nostra città. Nessun velivolo nemico sorvolò mai la nostra città.